il bione dai Teo riprenditi un attimo Teo occhio eh si preparano al 3-5 Simone Baricazzi e Johnny Cecchini non lasciagli dentro le braccia Teo metti il ginocchio nel culo teo ginocchio nel culo e ok ginocchio nel culo allarghi la base con l'altro allenato Pona che o paghera di venire presto vai Teo forza forza dai Teo devi uscire da quella guardia lì eh dai Teo su 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 no 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 si preparano al 3-5 mi senti il ginocchio subito mi fanno sedere dai Teo no 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 gira 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 per la finale assoluta il blu a tutti via teo con il finale non lasciagli in fiangolo eh si preparano Rossino e Mermigi per il tatami 8-64 Matteo Rossino e Mermigi e Matteo Grazie